Samuel Stern numero 30, la crepa. Siamo arrivati al trentesimo numero ragazzi, festeggiamo. Wabalabadabdabe, bentornati, sono Mamamazzo e bentornati nella rubrica Fumetti, nella rubrica Samuel Stern. Oggi parliamo appunto del numero 30, che mi voglio subito togliere il dubbio, è scritto da Gianmarco Fumasoli e Marco Saveniago con i disegni di Luca Colandrea. Tra l'altro, Luca Colandrea, l'ultima volta che ha disegnato per Samuel Stern, era nel numero 5, la fine della coscienza, numero che in questo numero viene citato spesso. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un mi piace o non mi piace questo video e anche tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che hanno una crepa e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo video e di questo numero. Vi ricordo anche che sugli altri miei social, tra cui Twitch soprattutto, domani sera ci sarà una live proprio dedicata a Samuel Stern dove faremo una tier list, una classifica dei migliori e peggiori numeri di questa collana. Quindi ci toglieremo i guanti e finalmente sarà inevitabile, troveremo anche dei difetti in questa nuova avventura della Bugs Comics proprio per stilare i numeri migliori e peggiori, anche se la qualità, lo sappiamo, è molto alta. Con me ci saranno Luca DJ, il canale di Kuro e le Two Horizon che troverete tutte assieme sul mio canale Twitch. Dove trovate il mio canale Twitch? Qua sotto in descrizione, cliccate, potete vedere la live anche se non siete iscritti a Twitch. Per commentare dovete quantomeno essere iscritti a Twitch, poi toglierò comunque la possibilità di commentare solo per gli iscritti al mio canale in modo che sarà più libera possibile. Samuel Stern, la crepa. Partiamo subito con un piccolo difettuccio, non di questo numero, ma un pochino comune, no? Un po' a molti numeri di Samuel Stern, ma che non so nemmeno... non so dirvi se è un difetto che è reale o è percepito da noi lettori. Spesso capita nel prossimo numero di Samuel Stern vedere un titolo che potrebbe far riferimento al finale della storia precedente che potrebbe finalmente approfondire la storia del personaggio. È la volta della crepa, dove si vede appunto un Samuel in primo piano con una crepa che pare essere la sua, potrebbe avere una crepa anche Samuel Stern e potrebbe essere questo il motivo per cui ha allontanato la figlioletta, come abbiamo visto nel numero scorso. E invece no, poi si va a leggere il numero e il numero parla d'altro, parla dell'ennesimo caso a cui Samuel e Duncan cercano di dare sostegno, supporto e esorcismo, ovviamente. È una cosa che l'ho vista ripetersi più volte, non mi dà fastidio, perché so che comunque prima o dopo la Bugs ci arriva a spiegarci le cose in maniera tra l'altro inaspettata. Però ecco, inizio a notarlo un pochino. Ecco, quindi non è proprio una lamentela, però diciamo, è solo una mancanza di aspettativi... cioè, scusate, è un mancato riscontro tra la mia aspettativa e quello che effettivamente leggo. Ma tolta questa cosa, perché non ho 12 anni, quindi non è che mi devo fare il mio film mentale e poi essere deluso, tolta questa cosa, la storia è davvero interessante. Se voi seguite il mio canale sapete che io ho un argomento particolarmente a cuore. Questo argomento è stato toccato diverse volte, su diverse sfaccettature, nei vari numeri di Samuel Stern e se non è, come si dice, se non era scontato adesso farò spoiler, questo argomento è la malattia di Alzheimer. Si è stata citata in molti modi diversi, è stata citata per esempio nella Casa dei Sospiri, dove era fondamentalmente ambientata in un ospite e si parlava di senilità. In un certo senso non è tanto stata trattata nell'Angelo del Focolare, ma lì abbiamo visto il fenomeno del burnout dei familiari verso una persona con disabilità e una famiglia in generale. Se non sbaglio anche in altri numeri è stato toccato l'argomento, ma non vorrei adesso confondermi. Quindi, comunque, grosso modo, anche perché nel mondo di Samuel l'ombra che genera il demone parte dall'interno della coscienza umana, quindi va da sé che laddove c'è appunto qualcosa anche a livello neurologico, mentale, comunque un demone si possa far strada più facilmente. E questo è proprio il caso in cui, in questo numero, ci spiegano proprio questa cosa. Qua si parla proprio in maniera aperta di Alzheimer, ciò nonostante lo si fa in una maniera insolita, nel senso che forse anche per deviare un attimino i sospetti iniziali del lettore su quello che potrebbe andare a leggere, non decidono di parlare di Alzheimer con una persona anziana come protagonista, ma parlano di Alzheimer precoce. Infatti la protagonista ha poco più che 42 anni, come lei stessa dice. E questo appunto all'inizio non ti fa pensare che sia questa la cosa, perché si parla apertamente di ricordi, anche all'inizio, anche negli appunti del Daryling, dove c'è un escursus di Angus che è davvero bellissimo e toccante perché ha avuto a che fare con questa malattia, su cosa è più importante, cosa è più doloroso, se non ricordare niente o se ricordare ogni singolo dettaglio. Da persona che ha una memoria fotografica mi sono rivisto parecchio anche in questi appunti di Angus, mi sono piaciuti molto. Però ecco, ciò nonostante non vai a pensare che si parli appunto di Alzheimer, perché la protagonista che ha questa crepa è molto giovane. Ciò nonostante quando si affronta il problema si mischiano le due cose, non si mischiano in maniera distratta, cioè volontariamente lo scrittore mescola l'ombra, quindi il fatto che è stato generato un demone, a questa malattia. Come abbiamo anche visto, anche questa cosa è stata un pochino sfiorata in altri numeri e è quello che genera più dibattito tra Samuel e Duncan, spesso il demone che si forma all'interno della persona quasi quasi è lì per aiutare, cioè è lì per tenere insieme i pezzi della persona che senza il demone cadrebbe, proprio perché il demone appunto ha proprietà sovrannaturali, nonostante appunto nasca da un motivo molto terreno, nasca dalla coscienza umana, ma poi va a, diciamo, toccare l'intangibile dell'inferno di legione, quindi da lì assume più potere di quanto non abbia l'umano stesso. Lo abbiamo già visto anche in altri numeri, dove anche nella fine, non alla fine della coscienza, scusate, nel numero scorso il quinto comandamento, abbiamo visto che anche lì un demone riesce persino a dare la forza necessaria a un paralitico di camminare, di fare acrobazie, ecco qua vediamo più o meno la stessa cosa, però dal punto di vista neurologico, dal punto di vista mentale, ed è molto interessante come di fronte a tutto questo persino il demone fatichi a tenere le cose assieme, proprio perché i ricordi sono un po' quello che creano la nostra persona, la nostra completezza. Non sono tutto, come lo stesso Samuel Stern dice sempre nel numero 25, l'angelo del focolare, una persona non è la somma dei suoi ricordi, c'è anche dell'altro, però chiaramente sono molto importanti. In tutto questo c'è anche un caso, sia dal punto di vista mediatico, sia dal punto di vista giuridico, che coinvolge appunto un'amica della protagonista che è stata ammazzata dal marito. Quindi è anche un numero molto terreno, molto terra-terra. Mi è piaciuta l'unione di tutta, la mescolanza di tutti questi argomenti, trattata in modo molto fine, dove ci hanno anche aggiunto un valore aggiunto, che è il fatto di non lasciare questo numero, come per esempio un caso isolato, cioè un numero molto bello che ti lascia anche una metafora interiore, ma solitamente questi numeri non si legano alla trama principale. Qua invece sono riusciti con molta sapienza a introdurre un argomento molto pesante anche da leggere, ma senza che sia un fenomeno a sé stante, perché si intreccia tantissimo con il passato di Samuel Stern, mi riferisco appunto al numero 5, la fine della coscienza, e quello che ci sarà. Come lo stesso Fumasoli dice nel suo editoriale, si inizia ad andare verso un nuovo ciclo. Le cose sono cambiate dopo Obisco, i demoni iniziano a comportarsi diversamente, si inizia ad andare verso una nuova battaglia. Non mi dispiacerebbe affatto se la nuova conclusione di stagione di Samuel Stern sia proprio una battaglia a livello quasi diciamo mentale tra appunto Samuel e questi demoni che fondamentalmente non sono totalmente malvagi, cercano di fare di tutto per tenere assieme il proprio ospite, perché fondamentalmente sono figli del proprio ospite, quindi ci tengono in un certo senso, e ci tengono alla loro pellaccia, perché chiaramente se l'ospite non ha più una coscienza anche il demone svanisce, come dicono alla fine di questo numero. Fine di questo numero con un cliffhanger che appunto riporta in auge un vecchio nemico. Devo ammettere che dopo 25 numeri di mezzo, questo vecchio nemico io non lo ricordo molto bene, devo rileggermi la fine della coscienza per diciamo avere un effetto jumpscare un pochino più assennato, perché non ricordo abbastanza che fine aveva fatto appunto questo personaggio che viene mostrato alla fine di questo numero. È buffo come io non mi ricordi questa cosa in un numero che parla di ricordi. Ma parlando appunto della fine della coscienza viene citata anche graficamente, perché appunto il disegnatore Colandrea probabilmente ci tiene particolarmente a disegnare dei cervelli di fuori. Ricorda molto la copertina del numero 5, quello che succede anche all'interno della storia, però qua sia dal punto di vista metaforico, quindi quando Samuel vede il demone aggrappato a questa persona, ma sia anche dal punto di vista delle foto che stava sfogliando Samuel Stern si vede spesso la persona con il cervello scoperto. Un'autocitazione sapiente al numero 5, questa cosa l'ho davvero apprezzata, però probabilmente non l'avrei notato se Fumasoli non avesse sottolineato che appunto è lo stesso disegnatore, quindi sono anche contento che lo abbiano nominato. Ovviamente dal punto di vista delle tavole, dei disegni, mi piace tantissimo l'alternanza tra il bianco e nero e le scale di grigio che tra l'altro ci donano le tavole più sperimentali, sono quelle appunto nella mente dell'indemoniata, della posseduta, e sono quelle che ci fanno appunto, ci danno come se fosse un livello appunto maggiore, più intenso di coscienza, dove appunto non ci sono solo bianchi e neri, ma ci sono anche scale di grigio. Questa scelta di disegno mi è piaciuta un sacco. Come sempre anche i flashback sono in scala di grigio, però ecco, c'è una chiara distinzione tra un flashback, che ha una griglia classica, e invece quando si entra nella testa del demone, dove c'è una diversa scala di grigio e la griglia non è più così classica. Quindi in questo numero ci sono due o tre stili diversi, non tanto di disegno, ma di intavolazione delle pagine, e questa cosa è una scelta perfetta per la struttura proprio narrativa di Samuel Stern. Samuel Stern è sempre stato di qualità anche per questo motivo. Dal punto di vista personale, devo dire, mi ha toccato questo numero, però devo dire non è il numero che mi ha toccato di più, proprio perché il vantaggio di legare questo argomento alla storia principale gli dà un'ulteriore potenza dal punto di vista della trama orizzontale, ma chiaramente la toglie un pochino dal punto di vista metaforico. Quindi uno magari non si rispecchia tanto in un numero dove gli elementi sovranaturali sono talmente tanti e vanno quasi, diciamo, a coprire il dramma della malattia, che comunque viene spiegato molto bene, viene spiegato anche nei dettagli. Se uno ci fa caso, quando uno dei mariti si complimenta con l'altro per lo stufato, è palese che abbia cucinato il marito e non la moglie, proprio perché questa malattia ti impedisce di fare anche delle cose basilari, banali, come appunto ricordarsi come cucinare. Quindi è seguita molto bene nei dettagli, però chiaramente il focus è sulla trama orizzontale. Ma ci sta tantissimo perché comunque c'è già stato il focus su queste cose anche in altri numeri, quindi diventerebbe troppo ripetitivo. Mi piace che qui abbiano usato comunque l'argomento per veicolare quello che sarà, quindi sono molto molto curioso. Basta, io ho parlato anche troppo, so che forse ho detto dei paroloni, ho fatto dei voli pindarici che magari non tutti gradiscono, però è molto difficile parlare di questo senza disperdersi in dettagli, quindi spero vi sia piaciuto questo video. Noi ci vediamo domani sera su Twitch, dove parleremo inevitabilmente anche dell'ultimo numero, che chiaramente essendo più fresco avrà una lettura, un giudizio un pochino diverso rispetto agli altri, e poi parleremo dei Samuel Stern in generale e li classificheremo. Quindi non mancate, noi ci vediamo domani sera.